prima lettera ai tessalonicesi capitolo 5 versetti 12 e seguenti vi preghiamo poi fratelli di avere riguardo per quelli che faticano per voi che vi sono preposti dal signore e vi ammoniscono trattateli con molto rispetto e carità a motivo del loro lavoro vivete in pace tra voi vi esortiamo fratelli correggete gli indisciplinati confortate i pusillanimi sostenete i deboli siate pazienti con tutti pregate incessantemente in ogni cosa rendete grazie questa è infatti la volontà di dio in cristo gesù verso di voi non spegnete lo spirito non disprezzate le profezie esaminate ogni cosa il dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro spirito anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del signore nostro gesù cristo cari figli perché ho voluto richiamare la vostra attenzione su questo brano delle lettere di san paolo perché calza pennello con il vostro caso e possiate riconoscere tramite la parola la mia verità seguite il vostro gesù d'amore con la massima attenzione aver riguardo per quelli che faticano tra di voi che vi sono proposti dal signore e vi ammoniscono quelli per cui dovete avere riguardo e faticano tra di voi cioè che sono impegnati nel difficile compito di trasmettervi gli insegnamenti della divina volontà preposti da me e vi ammoniscono cioè vi fanno notare i vostri errori sono miei strumenti anime scelte per questo compito trattateli con rispetto e carità a motivo del loro lavoro è certo d'obbligo trattarli con rispetto e anche con carità anche loro hanno le loro debolezze e nessuno è perfetto poiché il loro non è lavoro per il mondo bensì per il cielo vivete in pace tra di voi il mio è un regno di pace lo è in cielo lo sarà in terra ma per ora deve esserlo nei cuori l'unico posto in questo mondo dove possa riposarmi correggete gli indisciplinati confortate i pusillanimi sostenete i deboli è compito di tutti ma in particolare dai prescelti correggere gli indisciplinati cioè gli insofferenti ai miei comandi confortare i pusillanimi che si nascondono dietro la testimonianza di altri cioè non hanno il coraggio di esporsi sostenere i deboli che non sanno prendere una decisione cioè cambiano spesso cammino pregare incessantemente in ogni cosa rendere grazie questa infatti la volontà di dio non ho nulla da rimproverarvi sul vostro modo di pregare ma quello che non fate mai è ringraziarmi ogni volta che vi invio un messaggio non disprezzate le profezie non siate increduli verso le profezie quando autentiche non siate critici se cambiano ogni profezia è in relazione a particolari situazioni e condizionata dalla risposta dell'uomo cambiando situazioni e risposte le vecchie profezie non hanno ragione di sussistere il dio di pace vi santifichi fino alla perfezione è il motivo per cui vi ho creati siete figli miei eredi del regno eredi della mia stessa santità e perfezione cari figli sceneggiate come quella di ieri sera mi feriscono non siete nuovi a queste performances compatitevi perdonatevi amatevi come io il vostro gesù d'amore vi ho insegnato siete deboli dovete sostenervi a vicenda le vostre discussioni sono dannose vi fanno uscire dal seminato per entrare in un terreno arido tra rovi serpi e sassi dove non c'è vita dove potete perdere la mia luce e smarrirvi vi amo immensamente vi benedico sia sempre lodato il nome di gesù